buongiorno cari amici a voi tutti social amanti di youtube facebook instagram e quant'altro in pochi minuti massimo due o tre voglio dare un mio personale pensiero punto di vista una mia opinione sulla situazione attuale periodo storico in questo momento che sicuramente non stiamo vivendo un momento assolutamente facile anche perché insomma ci tiriamo dietro da tre anni la pandemia ora abbiamo diciamo queste frontiere guerre tra russia ucraina ovviamente con insomma una spenda d'odio e di potere iper potere da parte della russa che insomma sta lasciando vittime e sacrificando persone che ovviamente non si aspettavano mai questa situazione qui ovviamente non è semplice vedere il lato ottimistico della cosa anzi è abbastanza difficile però diciamo che dovevo sempre credere appunto al lato al lato al lato buono che sperando che tutto questo finisca quando prima certo è come io anche ad amici e conoscendo insomma una persona che penso stesso come noi almeno penso che si sia vaccinata e causa tutto questo insomma comunque ci sono tantissimi punti interrogativi e speriamo che sicuramente la situazione non peggiori io innalzo tutte le preghiere del caso e che dire perché breghiamo breghiamo e fidiamoci appunto all'aldissimo affinché questa situazione possiamo possiamo e possa soprattutto il popolo ucraino averla alle spalle quando prima anche perché abbiamo bisogno davvero di vivere in un mondo rilassato non con tutte queste problematiche che è di dire sentiamo fortemente di fare questo video clip quindi cerchiamo di aiutare in ogni maniera possibile la popolazione ucraina e speriamo in bene ciao a tutti ai prossimi appuntamenti ciao